L'emergenza rifiuti potrebbe riaffiorare già dalla prossima settimana con i rifiuti provenienti dal termovalorizzatore di Acerra che chiuderà per due o tre settimane, causa manutenzione e trasferirà quindi i rifiuti in Irpinia. Un'ipotesi che lascia spiazzati gli amministratori irpini. Noi siamo pronti ad accogliere i nostri rifiuti, a stoccare piuttosto i nostri rifiuti per il tempo necessario che consentirà, mi pare che sia stato detto per due o tre settimane massimo, consentirà quindi ad Acerra la manutenzione. È chiaro che poteva essere concordato anche con le province tutto questo e quindi anche con la provincia di Avellino per i tempi, soprattutto la modalità, il periodo che secondo me questo non è il periodo migliore però noi siamo pronti soltanto ad operare, a lavorare su quelle che sono i nostri rifiuti. E intanto domani è stata convocata una riunione in regione per pianificare le modalità di azione. Domani siamo stati tutti convocati in regione Campania per tentare di fare un'operazione di raccolto quindi siamo in piena sintonia, siamo come si dice sul pezzo e stiamo tentando di fare argine per non farci trovare impreparati, è una nuova stagione, quella che prossima, post-estate che ci veda impegnati in una modulazione diversa del servizio. Speriamo che mantenga l'impostazione, che rimanga temporanea, che riguardi questo lasso di tempo, questo periodo e noi daremo il nostro contributo come ci viene chiesto e cerchiamo di fare nel modo migliore.